cari amici appassionati di orologi ben trovati il marchio di cui parleremo oggi un marchio che voi già conoscete che mi ha fatto letteralmente innamorare dello stesso gruppo proprietario di Eterna un marchio creato da Rotary stiamo parlando di Dreyfus lo abbiamo visto qualche settimana fa quando vi ho mostrato il Pilot con calibro di manufattura Eterna sono rimasto talmente tanto contento che ho deciso di comprare anche un altro orologio molto diverso da quello che abbiamo visto qualche settimana fa perché il bello di questo marchio di Dreyfus che non capisco se siamo ancora in attività se abbia smesso di produrre perché non mi hanno mai risposto alle mail è però che il suo catalogo è veramente vastissimo ci sono orologi sportivi orologi meno sportivi orologi da uomo da donna che spesso sono un tasto dolente per molti marchi orologi che hanno un diametro che fa in modo che possono essere utilizzati da entrambi i generi e l'orologio di oggi non fa eccezione con i suoi 37 mm di diametro infatti può essere utilizzato sia dagli uomini che dalle donne 37 mm che sono accompagnati da uno spessore ridicolo di 11 mm soprattutto tenendo conto che questo orologio in camera ha un l'età 28 24 il passo del cinturino è di 20 mm ma su questo ci torneremo più tardi perché c'è una piccola criticità l'orologio è sovrastato invece da una cupola di vetro zaffiro a dire la verità non il vetro zaffiro più limpido che abbia mai provato ma che lascia scorgere la vera particolarità di questo orologio e cioè un bellissimo quadrante color rame con finitura home come nella parte centrale nella parte esterna mentre liscia la parte nella quale trova l'alloggiamento gli indici a bastone indici a bastone che sono color argento riflettenti così come riflettenti sono le sfere che sono azzurrate questo orologio lo dice il nome stesso 1925 un orologio che rievoca l'eleganza di quegli anni quindi non poteva avere sfere e indici fluorescenti a me questa cosa dispiace perché voi come sapete sono appassionato orologi con ampia leggibilità ma sono anche appassionato orologi che sono anzitutto coerenti con se stessi quindi capisco lo spirito per il quale trefus non abbia inserito pigmenti luniosi sempre nel quadrante a ore 3 trova alloggiamento sapientemente inserita la data una data che mossa dal appunto età 28 24 che incamera questo orologio e da una corona con testa smaltata anch'essa ore 3 sovrastata da due spallette molto importanti che la proteggono che rendono l'orologio ancora più comodo una corona che ha vite perché questo orologio ricalca le caratteristiche di cosa si tratta si tratta di uno standard per il quale anche se questi orologi sono inadatti a vista l'estetica vista la vocazione all'utilizzo il mare beh brevus dice tutti i miei orologi sono sui acqui fino a 70 metri nel modo che chiunque che sia per volontà che sia per un incidente che sia per qualsiasi cosa possa continuare a utilizzarli e non tema di bagnarsi le mani piuttosto che di farsi una doccia piuttosto che di finire il rispetto per volontà o sbarattaggio di un incidente in acqua questi orologi sono impermeabili questo è quello che dice brevus è questo concetto lo sintetizza con standard si fare per andare oltre il fondello si presenta con una struttura scheletrata un vetro zaffero lascia vedere il movimento che è rifinito color oro ci sono una serie di specifiche il nome del modello il seriale appunto la scritta si fare il nome della brevus switzerland e il fondello è naturalmente avvitato andiamo a vedere invece il cinturino che si presenta con una struttura realizzata in pelle verniciata tra l'altro bellissimo colore la criticità legata al cinturino è legata alla struttura della cassa perché nonostante le anse abbastanza lunghe brevus ha deciso di praticare i fori per l'inserimento di cinturino troppo vicini alla cassa e così facendo anche tutto ha avuto bisogno dell'ausilio di ansie curve ma ha impedito ai utenti di poter montare qualsiasi tipo di cinturino bracciale aftermarket ad esempio in questo orologio sarebbe stato perfetto un nato piuttosto che un bracciale mesh peccato sono scelte il cinturino comunque ultimamente realizzato e si conclude con una chiusura decolliante a farfalla personalizzata da brevus con addirittura il marchetto inciso nella parte centrale nulla è lasciato al caso neanche il packaging che per quanto con gli sconti attualmente sul mercato brevus abbia deciso di declassare eliminando la classica scatola in legno di radica che veniva utilizzata recentemente con cinque alloggiamenti per orologi e che ha lasciato il posto a una scatola di cartone con una superficie simile pelle che però è marchiata così come marchiata la contrascatola e all'interno della quale si trova il cuscino piuttosto che un libricino nel quale è raccontata la storia di brevus nel quale nella prima pagina è presente il faccione del signor brevus e poi ci sono una serie di indicazioni per la garanzia per gli standard eccetera c'è anche un'etichetta di plastica che avevate già visto nel pilot e che nella parte posteriore lascia spazio al prezzo di cartellino e invece non c'è quella pergamena che avevamo trovato sul pilot e che probabilmente per ora è legata alla natura dell'edizione limitata al polso l'orologio si presenta assolutamente bene vediamo se riesco a far mettere a fuoco come potete vedere sul mio polso da 17 centimetri e mezzo i 37 mm di cassa sono perfettamente ben equilibrati ed anzi si presentano anche in maniera più importante rispetto a quella che ci siamo aspettati questo perché come vi ho sempre spiegato la dimensione luminale delle casse non fa la vestibilità l'orologio qua è privo di una ghera rotante ha un ampio vetro un ampio quadrante questa situazione porta a far sì che l'orologio paglia più grande dei 37 mm che realmente lo compongano però la comodità è veramente assoluta non c'è alcun effetto migliottina da parte della corona perché è assolutamente sovrastata oltre che arrotondata dalle spallette qui c'è una grande comodità bene ma quindi io di questo orologio cosa penso ma anzitutto il marchio per me è estremamente accattivante stiamo parlando di un marchio che è poco conosciuto ma nonostante ciò nulla è lasciato al caso è veramente ben realizzato gli orologi hanno un'altra componente di manualità sono definiti handmade io non ci credo assolutamente che siano fatti a mano però sono andato a visitare come detto nell'altro video la fabbrica eterna e ho visto quanta manualità quanti artigiani si trovano all'interno a lavorare e siccome questo questi orologi sono prodotti vengono da lì sono prodotti dalla stessa catena produttiva nulla mi impedisce di pensare che comunque sia seppur non siano fatti a mano la manualità presente e la presenza dell'uomo sia veramente un fattore importante in questi orologi detto ciò poi c'è il prezzo il prezzo al quale si trova in questo momento questo orologio a meno che non sia salito nel momento in cui lo sto montando è di 450 euro meno di 450 euro tutto compreso su amazon la settimana scorsa e la 650 qualche settimana fa quando l'ho preso io da meno di fatto c'è una fluttuazione continua dovuta all'aumento piuttosto che alla diminuzione delle vendite settimana per settimana posso però io dire che questo orologio sotto 500 euro è sempre comprato bene le finiture sono superiori a un Hamilton giusto per fare un paragone lasciando perdere il discorso del calibro perché Hamilton ormai monta a 10 con 80 ore di rilevola ricarica Refus monta a 28 24 ma al di là di questo le finiture complessive cassa quadrante particolari sono veramente di altissimo livello inoltre l'orologio è veramente unico o comunque molto particolare nel proprio design e anche questo un valore aggiunto non indifferente particolare come l'altro orologio che vedete in sovraimpressione che addirittura costa meno di 250 euro che avevo consigliato di comprare a due amici che mi hanno dato retta e sono contentissimi qui c'è un errore nella descrizione dell'inserzione Amazon c'è scritto da donne invece un 36 mm i miei due amici che l'hanno contratto sono uomini e si trovano benissimo ripeto tutti orologi che presi al giusto prezzo regalano emozioni veramente importanti senza tenere conto poi di un'ultima riflessione che faccio prima di salutarmi io mi ricordo di condam il famoso diver che poi con un gruppo di amici avevo personalizzato condam per anni è stato un marchio che non si è filato nessuno hanno sbagliato il hanno sbagliato il marketing hanno sbagliato il prezzo di posizionamento iniziale ed è finito veramente per essere svenduto a prezzo di movimento adesso tutti lo cercano perché lo hanno scoperto ecco mi rivolgo soprattutto ai collezionisti non aspettate che succeda questo per Dreyfus soprattutto per il pilot oltre che per questo con calibro eterna che è un'opportunità più unica che rara tenendo conto che il solo calibro costa al listino più del prezzo dello street price al quale l'orologio stesso è venduto su un noto sito ebay inglese in questo momento quando finirà chissà bene a termine di questa riflessione non ci rimane che salutarci e darci appuntamento alla prossima recensione